Salve a tutti e benvenuti nel mondo delle mantidi. Noi ci occupiamo delle mantidi a 360 gradi e oggi vogliamo fare alcuni approfondimenti sulla parola mantide. Sul vocabolario la parola mantide ha due significati. Il primo è appunto quello più famoso, ovvero indica gli insetti dal corpo snello solitamente verdi o marroni che tengono le zampe raptatorie in una posizione che assomiglia alla preghiera. L'altro significato è quello di una donna cacciatrice di uomini. La parola deriva dal greco mantis cioè profeta o indovino. Questo sempre per il fatto che le mantidi tengono le loro zampe in posizione di preghiera. Oggi molte persone tendono a indicare il nostro insetto per il nome di amantide invece che mantide. Questo perché questa parola risulta strana e gli uomini cercano di farla sembrare qualcosa di più familiare riconducibile alla famosa credenza dell'amantide femmina che mangia il maschio. Con questo è tutto. Noi ci rivediamo nel prossimo video.